tiziano ferro e i suoi auguri di natale non riesco a cantare e a scrivere il cantautore di latina racconta le difficoltà che sta incontrando ma si dice positivo da un periodo di distruzione arriva sempre una rinascita sono queste le prime parole che il cantante ha usato poi dice lo so che vi aspettavate il calore che di natale però è un anno un po particolare ultimamente non riesco veramente a cantare non riesco a scrivere non riesco a fare musica pochi giorni fa dice sempre tiziano ferro ho registrato la performance con la fantastica elisa ho cantato e ho pensato che tutto si fosse sbloccato poi finita quella performance è andato via la voce per un po e quindi ho capito che il mio corpo e la mia voce mi stavano dicendo che io devo rispettare le loro volontà ma oltre questa confezione tiziano non vuole piangersi addosso lamentarsi anche perché come dice lui stesso ci sono molte persone che soffrono non sono triste io sono positivo prosegue rassicurando i fan che torneremo vicini poi conclude dicendo se è vero che da un periodo di distruzione arriva sempre una rinascita continua io sono qua per dirvi che sono certo che l'anno che arriverà sarà un anno di cose nuove che spero di fare con voi